Dal 10 settembre sulle tre linee urbane di Settimo Torinese sparisce il biglietto e si viaggerà gratuitamente, lo ha deciso la Giunta Comunale nella sua ultima seduta. Le tre linee cittadine 1, 2, 3 che collegano Settimo a San Mauro, con cadenza di passaggio tra la mezz'ora e i 40 minuti gestita da Unati, un'associazione di imprese del territorio, da lunedì saranno completamente gratuite. Per risparmiare ed offrire la gratuità del biglietto l'amministrazione Settimese ha deciso la soppressione di una decina di corse, principalmente sulla linea 1, quelle delle 8.45 alle 11, dalle 15 alle 18 e sulla linea 2, dalle 13.10 alle 14.30. Ad accelerare i tempi di questa decisione anche in tagli imposti dalla Regione. Dunque dal 10 settembre sui mezzi pubblici di Settimo Torinese si viaggerà gratis. Un'innovazione incredibile, com'è stata resa possibile? Questo provvedimento l'abbiamo deliberato martedì scorso. Due fattori hanno determinato sostanzialmente questo provvedimento. Uno è i tagli famosi dalla Regione sui trasporti che riguardano tutti. La seconda cosa è una volontà di razionalizzare e dare maggiore efficienza alle nostre linee interne. Naturalmente non abbiamo potuto fare a meno di tagliare alcune corse, sono una decina su una cinquantina di corse delle tre linee. Abbiamo salvaguardato l'utilizzo dello scuolabus, quindi il servizio è rimasto integro, senza tagli e tantomeno aumenti. Abbiamo fatto questa scelta, visto i momenti economici che stiamo attraversando, di rendere il servizio restante, diciamo così, gratuito. Anche perché abbiamo delle attese per il prossimo anno, perché il prossimo anno entrerà in efficienza il passante ferroviario e quindi potrà dare luogo a quello che è il treno metropolitano su Torino. Ci aspettiamo molto da loro e abbiamo fatto questo primo passo per poter prepararci a questo evento che aspettiamo da molto tempo.